Avevo iniziato a fare attività a San Marcellino quando non avevo più tempo per fare il capo negli scout. La mia esperienza da sempre è stata quella di vedere San Marcellino come un tipo di servizio che può essere compatibile più o meno con qualsiasi situazione di vita in cui ci si trova. Quindi credo che una delle motivazioni per fare servizio a San Marcellino sia provare a fare una cosa che non costa tantissimo ma che può essere molto significativa. Sono persone di cui sostanzialmente ci si occupa troppo poco in termini sociali, in termini politici. In questi anni vedere tante persone che hanno potuto iniziare un percorso e poi portarlo avanti sino ad avere poi una situazione molto più soddisfacente è sicuramente stata un'esperienza gratificante. Sì, quindi a San Marcellino uno ha l'impressione di stare all'interno di un'organizzazione che non lavora a ribasso e quindi c'è la possibilità di andare avanti se si va avanti ma anche di vedere accolte le proprie difficoltà se uno, come dire, più di un determinato livello di autonomia non lo riesce a raggiungere. Mi sembra questo un approccio realistico e che poi nella pratica dà dei risultati effettivamente positivi. Quindi secondo me una delle carte vincenti di San Marcellino è anche molto la capacità che si vede nei confronti degli ospiti ma anche dei volontari di ragionare su quello che è la disponibilità e la possibilità di ciascuno non creare un sistema con delle richieste standardizzate e poi se vai bene lo puoi fare, se non vai bene non lo puoi fare.